Stagione 2013-2014, prima giornata, in diretta dal Cero Portivo di Fizio Nasco, per noi oggi c'è il maledetto Spiga. Buongiorno, siamo qua con la rivelazione del precampionato, Beppe Leone, rappresentato con tre gol in due partite, siamo qua a ascoltare le sue sensazioni. Due parole sulla partita. Ma, siamo qui, speriamo di vincere, anzi dobbiamo vincere, e che Dio ce l'ha mai di buono. Prima partita, oggi Davis, Gauccio si presenta con due gol in tre partite, no, tre gol in due partite. Ci vediamo nel post partita, ragazzi. Con il migliore in campo. Il migliore in campo e il migliore in serata quest'anno. Ah, incredibile. A dopo.